ciao a tutte amiche e amici e ben ritrovati sul mio canale io sono federica e oggi vedremo come realizzare queste bellissime scarpine da bambina all'uncinetto per una taglia da 3 ai 6 mesi l'occorrente per questa lavorazione è filato in cotone io ho utilizzato questo ig di tessiland per fare la suola delle mie scarpine un lilla sempre ig della tessiland del colore 7410 un cotone bianco sempre di tessiland ho perso un tagliandino sempre ig color bianco un uncinetto numero due e mezzo delle forbici un centimetro e un ago da lana vi lascio il tutorial e ci vediamo alla fine del video inizio facendo il mio capito iniziale e faccio 13 catenelle adesso questa lavorazione sarà in tondo effettua un'altra catenella per girare il lavoro che ci 2 3 4 e 11 maglie basse nell'ultimo punto, nell'ultima catenella che è rimasta andiamo a lavorare 3 punti bassi 1 2 e 3 punti bassi adesso rifacciamo le nostre 11 maglie basse da quest'altro lato partendo dalla prima maglia, questa, facciamo le nostre 11 maglie basse il filo lo sto nascondendo qui tra le maglie basse e poi facciamo le nostre 11 maglie basse adesso facciamo altre 2 maglie basse nello stesso punto, nell'ultimo punto che abbiamo lavorato 1 e 2 maglie basse giriamo di nuovo il lavoro, così, e nel primo punto andiamo a fare un aumento, quindi faremo 2 maglie basse nello stesso punto 1 e 2 procediamo facendo un punto in ciascun punto avendo 11 maglie basse 1 2 3 3 4 5 6 7 8 9 9 10 e 11 nel punto successivo faremo un aumento quindi 2 maglie basse nello stesso punto 1 rientro nello stesso punto e faccio la seconda maglia bassa nel punto successivo nel punto successivo un aumento nel 1 e 2 e 1 e e 3 e 3 2 2 2 2 3 4 5 Rientro nello stesso punto e faccio un'altra maglia bassa Adesso continuiamo facendo 11 maglie basse, una maglia per ogni punto, 1, 2, e 11 maglie basse. Nel punto successivo facciamo un aumento, entro nel punto e faccio una maglia bassa, rientro nello stesso punto e faccio un'altra maglia bassa, nel punto successivo faccio ancora un altro aumento. Quindi entro nella maglia e faccio una maglia bassa, rientro nello stesso punto e faccio un'altra maglia bassa. Nel punto successivo faccio un altro aumento, quindi 2 maglie basse nello stesso punto. E poi faccio 6 maglie basse, una per ogni singolo punto, 1, 2, 3, 4, 5, e 6. Dopodiché vado a fare 3 mezze maglie alte. 1, 2, e 3. Successivamente vado ad eseguire 3 maglie alte. 1, 2, e 3. Adesso andremo a fare degli aumenti con le maglie alte. Quindi 2 maglie alte nello stesso punto. Fatte le 3 maglie alte iniziamo. Un aumento, quindi una maglia alta. Rientro nello stesso punto e faccio di nuovo una maglia alta. Entro nel punto successivo e faccio una maglia alta. Rientro nello stesso punto e faccio un'altra maglia alta. Stessa cosa per il punto successivo. Nel punto successivo ancora. E negli altri due punti successivi. A questo punto dovremmo ritrovarci 12 maglie alte dall'inizio dei nostri aumenti. Contiamole. Una, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, undici e dodici. Proseguo adesso facendo 3 maglie alte. Ogni maglia, una maglia per ogni punto. Una, due, e tre maglie alte. Adesso faccio, vado a fare 3 mezze maglie alte. Adesso faccio, vado a fare 3 mezze maglie alte. Dopodiché faccio, vado a fare 3 mezze maglie alte. Dopodiché, faccio 6 maglie alte. Dopodiché, faccio 6 maglie alte. Dopodiché, faccio 6 maglie alte. Un, due, tre, quattro, cinque, e sei maglie alte. Nella maglia successiva, faccio un aumento di maglie basse, quindi 2 maglie basse nello stesso punto. Una, rientro nello stesso punto, 2 maglie basse. Di nuovo, 2 maglie basse nello stesso punto. Ancora, 2 maglie basse nello stesso punto. E ancora un'altra volta, 2 maglie basse nello stesso punto. Vedete, la suola comincia a prendere forma. Adesso, facciamo ancora un aumento, 2 maglie basse nello stesso punto. Un, due, tre, quattro, cinque, sei, e sette maglie basse. Faccio 3 mezze maglie alte. Uno, due, e tre. Sei maglie alte. Ogni maglia, in ogni punto. Uno, due, e tre. Tre. E quattro. Faccio anche la quinta. Un, due, e sei. E quattro. Adesso facciamo sei aumenti. Due maglie alte nella stessa maglia. Una. Rientro nel punto, faccio la seconda maglia alta. Entro nel secondo punto, faccio la nostra maglia alta, rientro e faccio la maglia alta. faccio ancora un aumento. E altri tre, altri tre punti. Una. Due. E tre. per un totale di 12 maglie alte. Adesso facciamo altre sei maglie alte, ma questa volta una maglia per ogni punto. una. Due. Due. Tre. Quattro. due. 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 Mezzi. Maglie alte. Tre. Due. 7 maglie basse e altri 4 maglie basse chiudo con una maglia bassissima e questa è la nostra solettina taglio il filo non vi preoccupate per questo filo che poi lo andremo a nascondere prendo il filo bianco e con lo stesso uncinetto entro in un punto qualsiasi della suola giro la mia suola nella parte del rovescio entro in un punto qualsiasi questo passaggio se volete potete anche evitarlo non è fondamentale e vado a fare delle maglie bassissime una maglia bassissima in ciascun punto vado a fare questo lavoro perché così nel dritto avrò questo effetto come se fosse una cucitura non preoccupatevi per questo filo che lo nasconderemo in seguito arrivati a questo punto faccio faccio un'altra maglia bassissima e ancora nel primo punto che ho lavorato vado a fare un'altra maglia bassissima vedete a questo punto faccio una catenella taglio il filo e vado a chiudere la mia lavorazione questo filo che esce davanti non lo porto dietro così grazie 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 grazie